Anche per quest'anno è andato in archivio con un grande successo di pubblico e di partecipanti la seconda edizione del trofeo podistico Città di Castro Reale. Organizzato dall'ASAC con il patrocino dell'amministrazione comunale sotto legida della FIDAL, la manifestazione valida come settima prova del progetto Corsa su Strada ha visto alla partenza in corso Umberto I quasi 100 atleti provenienti da tutta la regione. La Kermesse che si è snodata su un circuito cittadino molto suggestivo di un chilometro che ha visto gli atleti passare per le viuzze del centro storico è stato affrontato per sei volte per complessivi sei chilometri. La gara si è subito animata grazie al corridore barcellonese Francesco De Caro. Il portacolore dell'indomitatore Grotta da subito ha imposto un ritmo elevato alla gara e così in meno di due chilometri ha fatto alle sue spalle il vuoto. Nulla hanno potuto i vari Davide Bonazinga, Roland Almento e Vincenzo Giordano già protagonisti della passata edizione. De Caro infatti con grande determinazione è riuscito a tagliare il traguardo solitario bloccando con grande soddisfazione il cronometro sui 20 minuti e 7 secondi. Sì sì sicuramente una bella soddisfazione comunque un percorso abbastanza impegnativo i strappi di salita da quel lato erano impegnativi però molto allenanti direi comunque una bella gara. Sono partito forte, sono partito forte i primi due giri, tre giri per fare subito selezione poi appena ho visto che avevo un margine diciamo di distanza diciamo abbastanza ampio allora ho rallentato, ho gestito la gara e sono arrivato d'altra parte. Alle spalle di De Caro si è piazzato invece il compagno di squadra Alberto Dorione con il tempo di 20 minuti e 39 secondi, terzo infine Guglielmo Gulli fedella Pro Form Messina. Tra le donne prima salute risulta Antonella Minutoli della Stile Libero Messina con il tempo di 25 minuti e 21 secondi, per la società organizzatrice in evidenza Salvatore Midici. Al termine della serata ha espresso grande soddisfazione per l'ottima riuscita della Kermes il presidente dell'ASAC Castro Reale Marco Monaco. Posso che ritenermi molto soddisfatto e condivido questa soddisfazione con tutti coloro che fanno parte dell'associazione e che hanno contribuito e hanno collaborato con noi. Quest'anno il percorso rispetto allo scorso anno è stato diciamo dimezzato perché lo scorso anno era di due chilometri circa, quest'anno abbiamo proprio dimezzato diventato un chilometro. Si è svolto nel centro cittadino e dai commenti fatti attraverso lo speaker abbiamo potuto notare che gli atleti hanno molto apprezzato il percorso di quest'anno, anche se purtroppo in un paese come Castro Reale la salita è inevitabile e così via anche di conseguenza la discesa. Anche il primo cittadino di Castro Reale, l'avvocato Salvatore Leto, ha avuto parole di elogio per la splendida riuscita della manifestazione. È un piccolo paese, però è un paese che pensa in grande, è un paese che ha la fortuna di avere giovani in gambissima, che si impegnano, che donano tutto pur di fare le cose che attraggono e che coinvolgono l'intera cittadinanza. Siamo veramente orgogliosi di essere castrezzi. La serata infine si è chiusa con la cerimonia di premiazione. A consegnare vari riconoscimenti sono stati il presidente e il vice dell'ASAC Castro Reale, Marco Monaco e Giovanni Rugolo. Grazie.